Andiamo a sentire allora il protagonista in questione, il lolandese Max Verstappen. Beh sì, quando ho superato il traguardo è stato un po' come una vittoria. Certo, Barcellona è stata la prima, ma questa è stata molto bella. Abbiamo provato una strategia diversa, purtroppo non ha funzionato. Per un giro avevo guadagnato quasi un secondo, quindi la scelta era anche giusta. Poi ho iniziato a riprendere a piovere e l'ultimo settore è diventato difficile. A quel punto siamo dovuti tornare indietro, è chiaro che ero deluso perché sono tornato al sedicesimo posto, però non l'ho mai mollato. Ho provato più volte a fare traiettori diversi, anche durante la sette car ci ho provato, perché ho provato il grip, quindi uscivo bene da alcune curve.